Due fucili calibro 12, una mitraglietta calibro 7,65 e due pistole e più di 300 cartuccia. E' quanto hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione di un'ottantenne incensurato i carabinieri della compagnia di Licata e della stazione di Naro, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio tra Palma di Monte Caro e Naro. Le armi e le munizioni erano in ottimo stato di conservazione ed efficienza e dopo il sequestro saranno adesso trasferite nei laboratori dei carabinieri del RIS di Messina per ulteriori accertamenti volte a verificare l'eventuale loro utilizzo per azioni criminose. Al blitz, nell'abitazione dell'anziano insospettabile, i carabinieri sono comunque arrivati a conclusione di un'intensa attività investigativa. L'uomo, dopo i rilievi segnalettici presso la compagnia dei carabinieri di Licata, è stato arrestato in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Negli ultimi mesi le forze dell'ordine hanno intensificato le indagini in questo specifico settore. Sono diversi i casi di sequestro di armi e munizioni messi a segno, in particolare nel territorio di Favara, dove era stato scoperto nei mesi scorsi un vero e proprio arsenale nell'abitazione di un infermiere incensurato.